benvenuti io sono il cencio e questo è un nuovo episodio di silent il 4 the room nell'ultima puntata abbiamo presumibilmente completato il livello della metropolitana 2.0 e dobbiamo tornare da eileen ad utilizzare la manovella del treno per andare da qualche parte per precauzione ci teniamo tutta la roba della metropolitana perché non si sa mai sarebbe fastidiosissimo dover fare avanti e indietro la casa non ha altre anomalie assurde per il momento almeno nessuno bussa la porta quindi possiamo tornare indietro da eileen e vedere di completare quella parte bruttina bruttina più che altro perché fastidiosa per i motivi cioè che ti devi portare dietro eileen che non può correre giustamente perché è ferita e si incastra in ogni metro e ci sono i fantasmi ogni due secondi è un po stressante vieni lì incammina per la miseria che ti cavo il frustino di mano ti faccio passare a voi ad usare quel frustino io sai dobbiamo capire ah sì il treno dove sono entrato che sono rimasto bloccato qua dentro e perché ti pareva che c'era lei subito qui dentro proprio non mi aspettava brava eileen tu picchia quello io picchio lei secondo me questo è il treno che dobbiamo far partire perché c'era l'accesso alla cabina borda guarda come è da secche eileen vieni però vedi quello è il problema eileen che rimane lì a far rissa e non ti segue non ti segue vieni eileen è venuto il fantasma non eileen spero che lei sia dietro il fantasma non posso manco vederla eccolo 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 la manovella la possiamo usare qui sì la carrozza avanzata di circa una lunghezza ok e il fantasma è scomparso la manovella ce l'abbiamo più è rimasta qui possiamo riutilizzarla non si muove più ok comunque siamo avanzati di circa una lunghezza aspetta un po e di qua invece eccolo è arrivato aveva perso il treno la porta è sempre aperta ma dove siamo siamo sempre di semplicemente adesso grazie alla porta del treno possiamo prendere possiamo prendere questa strada secondaria che prima era bloccata magnifico andiamo andiamo un'altra spada di sofocle è una specie di strana spada dacci qua la spada dell'obbedienza questa scena la si capisce poco nel senso oddio madonna ma non mi fai manco spiegare via e l'inno via 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 l'inno e l'inno e l'inno e l'inno ok dicevo questa scena la si capisce poco perché è tutta con quel filtro a grana tutto in quella maniera e tipo non reagiscono i personaggi vedono un Walter Sullivan adulto con la pistola in mano che insomma li minaccia dopo quello che è successo a Eileen eccetera eccetera e non reagiscono soprattutto Eileen non ha una reazione no e quindi quello che voglio dire è se tu vuoi fare una scena del genere esatto sono d'accordo Eileen se tu vuoi fare una scena del genere o metti una reazione anche se minima ai personaggi se no ti prego non lo fare perché sta cosa è veramente orribile Walter Sullivan che arriva punta la pistola o comunque vada si impone tra loro eh e niente i nostri nostri due protagonisti ah mio c'è Walter Sullivan oh allora com'è? I'm scared eh boh è strana quella scena è veramente strana proprio strana 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 comunque vi faccio notare che stiamo ripercorrendo lo stesso identico eh frammento di di strada di scala a chiocciola questa volta un po' più insanguinata con qualche pezzo di essere umano in più ma lo stesso identico frammento che abbiamo percorso eh per arrivare alla metropolitana ora prima di parlarvi di questa cosa voglio arrivare in fondo una falena così a caso perché le falene sono sempre simbolo di Silent Hill per vari motivi perché ricordiamoci ne era appassionata Alessa per esempio quindi Silent Hill 1 pullulava di falene c'era addirittura il boss della falena qui la falena che c'entra ma che ne so che c'entra buttaci una falena perché ci sta sempre bene una falena andiamo andiamo è aperto olè olè proprio qui vi volevo dove siamo nelle in vacanza nelle notti di agosto in riva al lago stiamo ripercorrendo il gioco esattamente come l'abbiamo già percorso questa è una delle cose più come dire devo usare devo trovare la parola giusta più questionabili ok di tutto Silent Hill 4 nel senso ormai non devo più tenervelo nascosto è inutile mentire è inutile fare finta di niente posso dirlo tranquillamente sì se l'avete intuito avete intuito bene sto gioco praticamente è suddiviso in due metà e noi abbiamo appena finito la prima metà cioè abbiamo finito la prima metà qualche episodio fa in realtà e adesso ci rifacciamo la seconda metà che è semplicemente rigiocare di nuovo la prima metà a una difficoltà aggiunta perché risaremo nei soliti posti nei soliti livelli paro paro dove cambierà qualche oggettino che potremo trovare in più e in meno con qualche nemico in più e in meno perché ho cercato un attimo le parole per anzi l'aggettivo per descrivere questo cambio questa seconda metà perché in parte perlomeno io vi dico la mia opinione in parte la trovo una cosa carina perché è figo riattraversare luoghi che si sono già conosciuti con una difficoltà aggiuntiva fa molto non lo so fa un po' anche molto videogioco devo dire ma fa anche molto viaggio non so come dire fa anche molto avventura si ritorna in luoghi che già si conosce ma è tutto diverso il problema qual è? guardiamoci in faccia e diciamoci la verità dopo tutto quello che vi ho elencato dopo tutto quello che vi ho raccontato dopo tutti i problemi che vi ho sottolineato che vi ho fatto vedere in questo gioco lo caprite anche da soli cioè è inutile girarci intorno e nasconderci questa roba non è stata fatta perché si voleva lanciare chissà quale messaggio si voleva dare al giocatore chissà quale impressione con questo rivisitare i luoghi che già si sono visitati è perché non c'era tempo di fare nuovi livelli nuove aree o di fare le aree grandi abbastanza ve lo dico io cosa è successo perché di sviluppo dei videogiochi ne ho seguiti ma no a milioni di più quello che è successo è che il team silent si è messo lì la squadra quella metà del team silent si è messo lì e la squadra che doveva fare il level design dei vari luoghi si è messa sotto sono arrivati a un certo punto in cui hanno detto ok entro questa data qua bisogna aver finito perché se no non riusciremo a fare in tempo a concludere tutto entro quella data loro avevano fatto i luoghi ma non erano completi sti luoghi perché c'era la metropolitana c'era l'orfanotrofio c'era la torre dell'acqua c'era i palazzi ok l'ospedale eccetera eccetera c'erano questi livelli qui ma erano piccoli quindi per far sta roba per forza di cose bisognava ampliarla ma non ci serveva il tempo per ampliarla quindi lo sai che si fa facciamo la suddivisione in due metà e la seconda metà riattraversiamo gli stessi identici livelli paro paro ma con una difficoltà aggiuntiva ecco quello che è successo questa cosa in realtà è gravissima ok dal punto di vista tecnico e di game design questo è in assoluto il difetto più grosso di Silent Hill 4 e attenzione da un punto di vista critico videoludico questa è una cosa gravissima gravissima a voi giocatori ok che prendete in mano Silent Hill 4 lo giocate magari vi divertite anche come vi ho detto a fare questa roba non ve ne potrà fregar di meno direte a noi proprio non ce ne frega niente se ci rispiattellano in faccia lo stesso identico livello due volte di fila con la difficoltà aggiunta ok ed è giusto così se il giocatore si diverte lo scopo alla fine è divertirsi fin tanto che il giocatore si diverte sti cazzi ok ma da un punto di vista critico serio ok che è quello che di norma noi facciamo su questo canale perché ripeto vedo nei commenti spesso c'è gente che non l'ha capito questo non è un canale di gameplay qualunque e con questo non è che mi sto innalzando a chissà quale autorità ecco sia chiaro semplicemente io non faccio gameplay solo per il gusto di fare gameplay e intrattenere io faccio gameplay con lo scopo di analizzare il videogioco in questione e trattare il medium videoludico come una forma d'arte quale è ok quindi esattamente come si analizza e si critica un film per fare un cineforum di una certa importanza o si fa una recensione accurata di un album musicale io faccio la stessa identica cosa con i videogiochi quindi è importante quello che vi dico nel senso andare oltre alle cose cercare di capire cosa ci sta dietro e criticare quello che è da criticare poi ci tengo a sottolineare che a me questa cosa in Silent Hill 4 non ha dato particolarmente fastidio ok questa suddivisione in due parti in cui è tutto riciclato non ha dato particolarmente fastidio perché si diciamocelo questa opinione mia personale hanno fatto una malandrinata è una cosa che non si dovrebbe mai fare in un videogioco mai però questa malandrinata l'hanno fatta bene perché le piccolissime modifiche che sono state apportate nei livelli nella seconda metà di Silent Hill 4 sono comunque fatte bene cioè queste modifiche sono quel tanto che basta per non rendere il tutto estremamente noioso per esempio la metropolitana era sostanzialmente paro paro avete visto la metropolitana che abbiamo già giocato ma con il fantasma di Cynthia che ti insegue e i collezionabili cioè più che collezionabili con gli oggetti spostati nascosti da altre parti da prendere giocandolo non lo si sente anche l'enigmino lì della metropolitana che è cambiato avete visto siamo dovuti fare il giro tornare indietro riprendere i gettoni trovare la chiave di sotto poi lasciare l'in lì da sola cioè alla fine io non l'ho trovato pesante fastidioso noioso da giocare e immagino che neanche voi da guardare quindi a opinione mia personale di sciencio come videogiocatore qualunque vi direi questa cosa non è così grave ok da un punto di vista critico sì lo è è gravissimo questa cosa che è stata fatta per questo ho usato l'aggettivo questionabile cioè nel senso si può essere più o meno d'accordo come no nel senso non si deve essere d'accordo però ognuno va un po' a pensiero no quello che quello che si prova l'importante è essere ben conscienti ripeto bisogna questa è una cosa che dico sempre nelle serie che faccio quando analizzo videogiochi è importantissimo è indispensabile quando si parla di arte ok che ripeto qualunque questo sia un videogioco un film un libro una canzone ok quando si parla di arte è importantissimo imparare ad escrivere il bello oggettivo dal gusto personale perché al di fuori di quello che dicono tantissimi ignoranti il bello oggettivo esiste e come non è un discorso semplice è una cosa che richiede tempo dedizione studi accurati approfondimenti in materia ma oggettivamente il bello oggettivo esiste ed è importante imparare a scindere il gusto personale dal da un qualcosa che oggettivamente ha una sua qualità ok quindi in questo caso oggettivamente la qualità di Silent Hill 4 è pessima soggettivamente secondo il mio gusto personale è comunque gradevole ok è importante suddividere l'opinione personale dalla qualità oggettiva di un prodotto molto molto importante qui c'è un'altra strana scritta scritta che noi avevamo già visto ripetutamente ma che non riuscivamo a leggere queste strane scritte e guarda un po' qui siamo nel cimiterino eccole lì le le farfallene pipistrellose corvo grillanti giù torna lì nella tomba vai e lì con quel frustino fagnene vedere noi sapevamo che Walter Sullivan oh ah sì perché ma perché non aspetta stavo dicendo siamo in un cimitero siamo vicino al lago sappiamo che Walter Sullivan è stato seppellito in un cimitero vicino al lago ok guarda caso qui abbiamo una bara scoperchiata qui è stata scavata una fossa sul fondo della cassa da morto ci sono i numeri 11 121 quindi 11 di 21 questa era la bara o il posto dove è stato seppellito Walter Sullivan e non lo conosciamo bene questo posto è relativamente vicino all'orfanotrofio in realtà anche qui il percorso da fare dall'orfanotrofio fino al lago al Toluca Lake in mezzo ai boschi sarebbe dovuto essere molto più grande molto più tortuoso e molto più figo ma ovviamente non ce l'hanno fatta quindi quello è stato adesso Aileen si scopre essere in grado di leggere queste scritte in giro che sostanzialmente sono il diario di Walter Sullivan quindi finalmente inizieremo a scoprire di più sul personaggio di Walter Sullivan e io vi dirò anche un paio di cosine in più in questo episodio sul personaggio di Henry e Aileen questi due personaggi che succede questi due personaggi nascondono delle piccole chicche nei loro nomi e nel loro essere prima mi voglio solo assicurare che qui intorno non ci siano candele o medaglioni riapriamo la mappa eccoci qua eccoci qua che spettacolo quindi andando giù di sotto giusto alla nostra sinistra di qua dove si andava scusami di qua si torna verso l'orfanotrofio e invece di qua questa porta dove portava ah addirittura possiamo tornare indietro ok possiamo tornare indietro quindi vi ricordate che queste scritte rosse erano sparse praticamente ovunque adesso finalmente potremo leggere i diari i ricordi le memorie di Walter Sullivan grazie Aileen ma ovviamente qua avremo una difficoltà aggiuntiva è troppo buio per vedere esattamente come nel livello della della metropolitana avevamo il fantasma di Cynthia qui avremo un'altra difficoltà aggiuntiva che per ora non si vede quindi noi pestiamo i cani ehi la brava brava Aileen con quel frustino bottevi che poi voglio dire Aileen in questo momento possiede naturalmente l'arma più potente del mondo altro che il frustino Aileen ha il gesso cioè Aileen se gli da una manata in testa a un cane col gesso gli spacca il teschio voglio dire altro che il frustino pesta con quel gesso lanternine sì ciao buona lanternine volevo dire le le candeline no eh da nessuna parte oh qua abbiamo un'altra un'altra parte del diario guardate l'orfonotrofio bruciato ma tu guarda scommetto che Bob ha fatto una brutta fine ci dovrebbero essere altre c'è un bigliettino per terra qui c'è qualcosa ma non c'è niente sento qualcosa dal pozzo manca qualcosa ah è cominciato Jasper una candela qui tra l'altro abbiamo il corpo un busto il corpo carbonizzato di una bambola è sulla sedia a rotelle c'è inciso sopra un messaggio sebbene il mio corpo sia stato distrutto non vi lascerò passare di qui in preparazione a colui che riceve saggezza ho tagliato il mio corpo in cinque pezzi e li ho nascosti nelle tenebre quando il mio corpo sarà nuovamente intero si aprirà la strada verso il basso se sei colui che riceve saggezza capirai le mie parole il rito è cominciato ok un indizio palesemente dobbiamo trovare i pezzi di questa bambola ricomporla così da poter scendere giù nella botolina a cui lei sta sopra vedete perché spostarla attirerebbe le ire degli dèi però probabilmente quindi è meglio evitare e abbiamo capito che stanno nell'oscurità i pezzi di sta bambola quindi probabilmente stanno nei pozzi che noi abbiamo visto in giro ne abbiamo visti diversi di quei pozzi lì il problema è come li tiriamo su perché è troppo buio per vedere ci serve qualcosa per per vedere dentro i pozzi abbiamo spazio nell'inventario ancora si continuiamo ad andare in giro perché magari troviamo qualcosa di utile eccolo lì eccolo lì eccolo lì non mi picchiate Eileen non mi picchiare Eileen brava Eileen contro di loro l'accetta è parecchio problematica perché non ha range l'accetta non colpisce affatto da lontano e quando li colpisco eh sì noi ci siamo già stati cara ogni volta che li colpisco vanno un po' indietro quindi diventa sempre più difficile colpirli una bevandina che berremo subito olè non mi pare ci sia nient'altro in giro qua è un posto dove potremmo trovare secondo me qualcosa di no no arnesi con i lunghi manici qualcosa per poter frugare dentro i pozzi tipo sta a scala è una scala devo salire no questa non va da nessuna parte è solo una piccola scala libretto eh oddio però effettivamente scendere in un pozzo con una scala no 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 molto meglio calare qualcosa dentro questi sono i proiettili per la pistola di Cosoli di Richard qui c'è un'altra strana scritta Eileen dacci un occhio no eh Eileen ti prego dai leggici sta scritta Eileen su fa la brava guarda 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 è figata qui 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 no eh che fastidio ragazzi che fastidio guarda guarda Sì, ovviamente, da dove ero nato. Ma presto, ho potuto vedere mia mamma. Do you know where she is now? Sì, ovviamente. Da dove ero nato. Molte persone cercano di stop me. Ma è bene, adesso. Dice in le scritture che io sarò con lei. Ho bisogno di scegliere, mamma è aspettando. Vediamo un po' qua. È una specie di medaglione dall'aria sospetta. Vuoi prendere il medaglione dall'aria sospetta? Sì. Medaglione con stemma. Medaglione con sopra inciso un inquietante stemma. Misura circa 25 cm di diametro. Manca la parte superiore del corpo. Che sia una dea o qualcosa di simile? Abbiamo l'inventario pieno, quindi dobbiamo tornare a posare tutta sta roba. Vediamo se Eileen ci legge questo. Dai, Eileen. Annaggia la miseria. Questo, Eileen. Ok. Mentre questo nel cartello, adesso te la senti di leggercelo? Oh no, rimarremo per sempre col dubbio. Niente. Oh, sì, 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 sì. Quindi qui non solo si parla della prigione acquatica, nei ricordi di Walter, anche qui, anche qui, anche qui, ma si parla anche di una signora importante che potrebbe benissimo essere Dalia Gillespi. October 28th. Ok. I have to take a train or something to get to Ashfield. Ed ecco spiegato perché tra i vari luoghi importanti nei ricordi di Walter Sullivan c'è la metropolitana. Perché doveva prendere il treno, doveva prendere la metro per andare a South Ashfield e da Silent Hill per vedere la sua mamma a quanto pare, comunque qualcosa che era in quell'appartamento che lui reputa la mamma. Perché sua mamma non va a capire che fine abbia fatto, non è più dentro quell'appartamento. Però lui che ne sa, lui non c'è mica rientrato, per lui la sua mamma è dentro quell'appartamento. E tutto sta facendo per rientrare dentro quell'appartamento presumibilmente, no? E' per quello che era sempre lì, che lo veniva visto sempre all'interno del palazzo. Perché cercava in qualche modo di ritornare da una sua pseudofamiglia, un luogo che chiamava casa. Ecco, mettiamolo così. Ma insomma, dicevo, in quello di là però, nella scrittura, quella lì del cartello, si parla non solo di una signora importante, che come vi dicevo potrebbe essere Dalia Ghillespi, tranquillamente, potrebbe essere Dalia Ghillespi. Ma non si sa, eh, attenzione, questo non vuol dire che è lei, non si sa. Potrebbe, ma non si sa. Ma si parla anche proprio dei 21 sacramenti della madre. Il rituale che sentiamo nominare spessissimo, e che cominciamo a farci un'idea a che cosa serva. T'ha posto? O vai? Il gatto. Questo non me lo ricordo, ragazzi, non me lo ricordo. Nella panca. Abbiamo un gatto nella panca. No? Ok, vi giuro, non mi sarei stupito nel trovare un gatto dentro la panca. Non mi sarei affatto stupito. Il medaglione con stemma, che serviva a non me lo ricordo proprio, quindi, boh, noi ce lo portiamo dietro, perché... C'ho un'idea, c'ho un'idea, c'ho un'idea, c'ho un'idea, c'ho un'idea del gatto. Salviamo. Il frigorifero. Potrebbe essere nel frigorifero il gatto. Vi ricordate che nei ricordi di Walter avevamo trovato la gattara che aveva messo il gatto dentro il frigorifero. E infatti E infatti Proviamo ad aprire E infatti E lì, bellino, bellino Ok, ok Ok, ok, ok Abbiamo una candela Ne abbiamo due, anzi, se non sbaglio Due, perfetto Esorcizziamo anche questa roba Spero di averla messa bene la candela in realtà, eh Non ricordo se potevo sbagliare a piazzare la candela Cioè tipo che La metti in un posto che non serve a nulla Ok, sì, è tutto a posto È tutto a posto Salvare abbiamo salvato Perfetto Abbiamo esorcizzato il male di nuovo E Joseph ci ha lasciato un altro bigliettino La mia teoria è che Walter non è morto in prigione Forse qualcun altro si è suicidato Oppure l'uomo che la polizia ha arrestato Non era il vero Walter Sullivan Non sono in grado di indagare sui fatti accaduti nella prigione Ma in ogni caso Walter non è morto lì L'uomo con il cappotto che è venuto qui è il vero Walter Sette anni fa Walter fece qualcosa in quell'appartamento Sono sicuro che c'è un legame Tra quello e gli eventi curiosi verificatisi qui Mi manca pochissimo per risolvere l'intero mistero Magari scoprirò che il vero Walter è qui nei paraggi 18 luglio Chissà, ci può stare Potrebbe aver avuto una bellissima intuizione Il nostro Joseph Il nostro detective Ovvero che quello morto in prigione Quindi di conseguenza anche l'uomo arrestato Non fosse il vero Walter Sullivan È difficile da credere Visto che Come fa la polizia a sbagliare persona Cioè voglio dire Non è che arrestano una persona per un'altra È un po' Non è impossibile Attenzione Non è impossibile Ma è un po' difficile da credere Come cosa È veramente Un po' difficile Però Diamo il beneficio del dubbio Radio Secondo me si è fottuta la radio Ragazzi Però il tricheco l'ho sentito la prima volta È strano Non so se è normale o no Comunque Diamogli il beneficio del dubbio Per quest'episodio Ci fermiamo qua Nella prossima puntata Ritorneremo nei boschi dell'orfanotrofio A risolvere quell'enigma In cui dovremo trovare i pezzi Anche se ancora non abbiamo capito Né dove Né come raccattarli E probabilmente Sarà l'episodio in cui parleremo Un pizzichino Di più Di questi protagonisti Di Harry Ed Eli Alla prossima Mommy On the sidewalk Of the city On the street Just a whisper Fizzing people Going nowhere See me soaking low Is Add compassion And the matters My resistance Is waiting Like a flower In the basement Waiting for a love Grazie a tutti.